buongiorno a tutti e grazie per la partecipazione a questo ulteriore webinar facente parte del bin focus di questa di questa settimana oggi parleremo di alcuni aspetti relativi alla presentazione di un progetto di interior retail di interior design quindi come in qualche modo realizzare quella che è la documentazione non prettamente tecnica del nostro progetto ma invece la rappresentazione visiva di quello che è il nostro progetto e che dobbiamo comunicare al al committente su questo argomento ci sono già stati dei precedenti dei precedenti webinar e di questi webinar ne parleremo ve ne farò un cenno e parleremo anche di altri argomenti ma chiariamo prima quali sono gli obiettivi che ci si prefigura nella realizzazione di elaborati grafici noi dobbiamo fare degli elaborati che dobbiamo presentare prevalentemente al committente in questo caso e quindi sono elaborati che devono conquistare l'attenzione il diciamo il piacere del del committente o del cliente quindi dobbiamo abbandonare momentaneamente l'aspetto l'aspetto tecnico quello diciamo che sono le istruzioni costruttive e andare a diciamo a mostrare a comunicare quello che è il nostro interesse e quindi dobbiamo per prima cosa nel progettare la nostra comunicazione decidere pensare a che cosa vogliamo comunicare quindi quali saranno i focus degli elementi principali della nostra della nostra della nostra comunicazione poi dobbiamo anche pensare a chi vogliamo comunicare a chi dobbiamo comunicare i committenti non sono tutti uguali c'è il privato il pubblico e quindi in base a chi dobbiamo comunicare dovremmo anche impostare le nostre diciamo il tarare meglio la nostra comunicazione visiva dovremmo anche un po conoscere ovviamente li dovremmo conoscerli conosciamo un po i gusti gli interessi le esigenze del nostro committente e quindi saranno anche nella fase della comunicazione visiva le cose che dobbiamo comunicare anche tarandole su chi deve ascoltare questa e quindi ricevere questa comunicazione chiaramente questo poi ci porterà anche a scegliere quali saranno i media e quindi se decise dobbiamo fare diciamo delle delle presentazioni cartacee o informatiche o di varia natura che comunque vedremo vedremo più avanti dobbiamo decidere come comunicare lo accennavo in base a chi possiamo scegliere di comunicare realizzando delle tavole stampate o degli dei book in cui facciamo sfogliare diciamo le varie immagini del nostro del nostro progetto e possiamo anche scegliere vari stili di comunicazione fotorendering disegno al tratto disegno di diciamo colorato di un certo tipo per cui la comunicazione qui in qualche modo dobbiamo anche scegliere questo per decidere quali sono le cose che dobbiamo fare dobbiamo però anche tener conto delle tecniche compositive delle immagini tecniche quantomeno di base stiamo comunicando non informazioni tecniche sui quali siamo preparatissimi per per come farle ma immagini e quindi comunichiamo con un altro linguaggio che è un linguaggio visivo che ha dei codici diversi da quelle delle tavole tecniche e che quindi dobbiamo in qualche modo conoscere pensare e quindi utilizzare e infine dovremmo valutare anche gli strumenti che abbiamo abbiamo a disposizione e che useremo sia per realizzare la nostra i nostri elaborati grafici sia anche per presentare questi elaborati grafici quindi questi sono un po gli argomenti che affronteremo che affronteremo oggi e vorrei cominciare appunto come dicevo con segnalare un precedente webinar che è stato fatto da Luca Manelli che trovate nel nostro portale it learn di grafici soft l'indirizzo lo vedete sopra quando accedete al portale dovete registrarvi e nella home page andate a scegliere il video tutorial archi club che sono gratuiti per i nostri utenti archi club all'interno di questi ci sono una serie di contenuti di ebook video corsi e quant'altro ma a noi ci interessa andare nella formazione archi club e in questo andare poi a scegliere i video corsi archi club qui dentro ci sono le registrazioni dei di tutti i webinar che noi abbiamo fatto e che continuiamo a fare relativi e quindi riservati ai nostri utenti fra questi uno degli ultimi è proprio quello di cui parlavo i sistemi di archi cad per presentare i progetti di interior design cioè è un po il punto di partenza che io vi consiglio di andare a guardare di cui diciamo è il prequel di questo o questo che stiamo facendo adesso il sequel di questo di questo webinar in questo webinar luca mannelli ha presentato tutta una serie di approfondendole anche di tecniche per la presentazione di quello che offre archi cad in sostanza e di come e quindi suggerendo degli spunti di tecniche diverse di presentazione partendo dal concept board quindi dal dei primi approcci dalle prime presentazioni così discorsive del con con il cliente per andare a tarare come in questo caso andare a scegliere i vari i vari materiali le finiture e quant'altro con e quindi con i vari metodi che il programma che archi cad ci mette a disposizione qui fa un esempio e quindi parlerà del cine render di come è possibile impostare i vari tipi di cine render l'utilizzo degli stili 3d quindi avere una presentazione diciamo che non è semplicemente che non è semplicemente fotorealistica rappresentazioni differenti della planimetria bene o male dobbiamo sempre presentare anche questo quindi i vari meccanismi le varie tecniche che noi possiamo utilizzare semplicemente con l'utilizzo di archi cad per realizzare questa presentazione quindi qui vengono proprio spiegati in questo webinar come realizzare realizzare queste cose quindi noi adesso non parleremo prettamente di questo tipo di tecniche ma parleremo in maniera un po più teorica di quello che è una presentazione diciamo di archi cad prevalentemente visiva e quindi basata prevalentemente sul fotorendere o sulle animazioni la presentazione del progetto e questo è un punto da tenere a mente raffigura l'idea che vogliamo comunicare è una citazione non mi ricordo chi l'ha detto però è una cosa fondamentale da tenere sempre da tenere sempre in mente e questa è una mia citazione una presentazione efficace quando riesce a dare al committente la visione di quello che sarà il suo progetto e soprattutto a trasmettere le emozioni questo dobbiamo tener conto dobbiamo tener conto che dobbiamo in qualche modo coinvolgere le motività del del committente di chi deve guardare questa cosa e eh per fare questo appunto dobbiamo ricorrere alle a quelle che sono le regole della comunicazione visiva ed evitare dal mio punto di vista quelli che secondo me sono degli errori importanti quella che stiamo vedendo è quella che io ritengo sia la diciamo l'immagine di un interior design di una vista di un interior design sicuramente la più conosciuta al mondo la più famosa la rappresentazione di un interno è la camera di Vincent Van Gogh a Darle e eh si trova questa è quella che si trova al al Van Gogh Museum di Amsterdam Van Gogh ha fatto questa ehm questo quadro nel 1888 e ehm poco tempo dopo è finito è stato ricoverato in stati di salute non molto bene quello che dice Van Gogh parlando di questo quadro è che dice avrei voluto esprimere un assoluto riposo con tutti questi toni così diversi e in cui di bianco non c'è che la piccola nota data dallo specchio con la cornice nera ecco se noi guardiamo questa immagine che abbiamo visto centinaia di volte chiaramente riconosciamo immediatamente Van Gogh ma ci sono alcune cose che ovviamente ci colpiscono ed è ci dà anche una sorta di emozione certo probabilmente non è la stanza da letto in cui vorremmo vivere però qui Van Gogh ha voluto esprimere qualcosa ha voluto esprimere qualcosa e forse questo qualcosa ce lo ha tramandato nella maniera nella maniera sua in maniera molto molto irruenta molto materica però dando molta attenzione a quelli che sono prevalentemente i suoi colori ma quello che mi interessa anche far notare in questa situazione è la comunicazione visiva la composizione visiva di questo quadro lui parla alla fine dei colori e l'unico in questa piccola frase, in questa descrizione che descrive è lo specchio, questo elemento qua che è solo una macchia di bianco quindi questo diventa un elemento focale quello che Van Gogh ci vuole comunicare è un insieme di tonalità, di colori che esprimono riposo, rilassatezza, tranquillità e quello che spicca fuori, che ci batte subito sul naso è esattamente la parte finale di questo letto di questo colore arancione, caldo che è la prima cosa che ci colpisce poi volendo un po' giocare con quelle che erano chi ha studiato un po' storia dell'arte l'avrà vista ed è quella della costruzione delle linee di fuga delle linee principali quando si guarda un'immagine ci sono delle linee forti che richiamano, che noi non vediamo, che non ci sono ma che ci danno, indicano, indirizzano indirizzano l'occhio verso una sorta di composizione ecco, queste cose le dovremmo in qualche modo tener conto quando scegliamo l'inquadratura delle immagini vedete, in questa si capisce già meglio il fatto che l'occhio ci indirizza verso la finestra ma anche poi verso questo specchio bianco un altro degli elementi compositivi degli schemi compositivi che più o meno tutti quanti noi avranno avranno visto tante volte è quello della cosiddetta regola dei terzi cioè dividere il rettangolo che costituisce la nostra immagine in tre parti sia nell'orizzontale che nel verticale tenendo conto che oltre alla centralità che è quella, diciamo, che stabilisce una simmetria forte e che stabilisce anche una sorta di staticità quindi un elemento importante la posizione degli elementi, diciamo, un po' nei nodi di questa cosa, di questa griglia ci dà la possibilità, ci focalizza e dà dinamicità agli elementi alle cose che vogliamo sistemare dobbiamo tenere conto di questa cosa quando pensiamo alla nostra inquadratura vale a dire dobbiamo probabilmente impostare le nostre viste in maniera che gli elementi di interesse le cose fondamentali che vogliamo dire siano posizionate e che siano messe nella maniera che siano assolutamente importante non messe da parte in un angolino e non mettere nei punti focali nei punti importanti cose che invece non disturbano o che ci danno fastidio quindi le cose da non fare alcune cose non vanno fatte perché rappresentano una diciamo danno un risultato non buono non raggiungiamo il nostro scopo una delle prime cose il primo errore da non fare è quello di concentrarsi troppo sullo strumento col rischio di lasciarsi dominare da quelle che sono le funzioni tecniche e questo è un aspetto che in questo periodo è molto io lo vedo molto lo si sente molto cioè preoccuparsi molto dello strumento del software che stiamo utilizzando per realizzare queste cose per cui andare nei tecnicismi e perdere delle ore per cercare di ottenere un realismo è un iperrealismo più o meno più o meno assoluto è la tendenza che probabilmente il mercato ci come dire ci spinge a seguire perché questo fa sì che diventiamo consumatori o acquirenti o tifosi di un software piuttosto piuttosto costo che un altro mi ricordo un po' di anni fa quando seguivo mi ero appassionato di fotografia che fra noi studenti all'università si parlava spesso e quasi esclusivamente delle macchine fotografiche degli obiettivi di questa che più ha una risoluzione maggiore rispetto a quell'altro quello distorce ma ci si preoccupava poco invece dell'immagine ottenevamo delle immagini che erano definitissime perfette ma senza nessun senza nessun contenuto questo è quello che un pochino vedo nei nostri in molti dei rendering di presentazione in cui diventano protagonisti i punti di forza dello strumento piuttosto che quelli del nostro progetto per cui dominano i tecnicismi a discapito di quello che invece di quello che vogliamo comunicare e ci dimentichiamo che al committente non interessa sapere quale strumento abbiamo utilizzato e ne quanto questo sia potente e preciso certo fare avere a disposizione un buono uno strumento buono efficace ed efficiente ci aiuta a ottenere quello che vogliamo soprattutto bisognerebbe saperlo utilizzare bene piuttosto però questo è una cosa che non interessa assolutamente al committente questo il committente vuole vedere vuole vedere altro qui per esempio faccio adesso una carrellata di esempi così un po' un po' alla rinfusa sulle cose da non fare questo per esempio è un fotorendering io prendo degli esempi raccolti raccolti in internet e sono come dire citati gli autori non me ne vogliono però ecco in questo caso abbiamo una diciamo un'inquadratura abbastanza curata un rendering abbastanza curato però cosa succede? succede che il committente in questo caso guarda quello che dovrebbe essere un angolo del suo soggiorno e nel punto focale fondamentale viene fuori questo elemento qui è un una specie di tessuto molto molto grezzo molto una trama molto importante ora se questa trama non l'ha scelta il cliente e quindi non ci ha detto lui io voglio questa trama qua questo diventa il punto focale il punto importante l'idea che noi vogliamo comunicare qui attira viene attirata l'attenzione del committente e se questa non l'ha scelta lui e se lui si immaginava una cosa diversa abbiamo sbagliato la comunicazione il committente vede questo e non vede tutto il resto e quindi e quindi abbiamo perso del tempo e non abbiamo ottenuto quello che volevamo per cui in questo caso dovremmo sempre pensare qual è la nostra idea forte e concentrarci e concentrarci su quella simile anche se un'inquadratura un po' diversa è questa in cui i tecnicismi e le sofisticherie del software ci hanno preso la mano qui abbiamo la classica camera da letto in cui quello che domina a parte in gombe questo angolo peloso è questo cuscino ecco questo cuscino diventa l'assassino che mi ammazza tutto il resto perché l'occhio finisce qua e se quello non è il cuscino della mamma del committente a cui il committente è particolarmente affezionato questo non vedrà mai invece tutto la parte tutto il resto di lavoro che noi abbiamo fatto per progettare questa cosa non andrà a guardare le vetrate la terrazza le sedie che ci sono fuori nel terrazzino e quant'altro ma andrà a guardare questo cuscino e questo plate peloso questo è un altro esempio qui si è voluto come dire valorizzare un angolo ci sta il momento il momento del diciamo la zona del relax ma anche qui quello che attira è che mi fa guardare non è l'architettura non è il design della diciamo dell'arredamento ma sono le riviste che ci sono qua sotto sono messe proprio nell'angolo fondamentale vicino a questa pianta di plastica in cui io personalmente vado a cercare di leggere gli articoli e i titoli dei giornali non mi sono accorto che magari qua in fondo ci sono delle ci può essere una bella lampada di design ecco anche questa è una comunicazione da non fare mettere in primo piano e in attenzione cose che non ci servono a meno che non vogliamo distrarre l'attenzione qui ritorniamo a un'altra vista della della cosa precedente ecco e qui c'è un pieno di cose si vedono un sacco di oggetti della frutta chiaramente finta delle cose che non si capisce cosa sono ecco non vedo l'idea dell'arredamento dell'architettura vedo un po' di vedo un po' di confusione di cose che al committente non fanno capire come sarà il suo soggiorno a parte probabilmente questi cuscini che sono molto imponenti e questa cosa che non si capisce cosa sia una scultura o una pianta dietro ecco questi sono quegli elementi che dovremmo cioè quelle composizioni o quell'insieme di cose che dobbiamo secondo me evitare di di inserire per non creare problemi qui abbiamo un altro tipo di problema a parte la qualità diciamo del diciamo della risoluzione del rendering finale abbiamo un'inquadratura molto bassa molto dal basso a livello cane o bambino piccolo che però ci potrebbe anche stare soprattutto se l'intenzione era quella di far vedere la parte di controsoffittatura o di illuminazione ma non si capisce perché ci devono devo stare dietro ai divani ecco probabilmente lui nell'inquadratura se si metteva davanti avrebbe avuto meno spazio da far da diciamo sarebbe visto di meno per cui si sposta indietro sì ma perché mantenere questi divani io credo che nessun committente si metterà mai i ginocchioni dietro ai divani per guardare per guardare questo tipo di soffitto il risultato è che sicuramente questi due divani mi ingombono nell'insieme e nell'immagine è sempre lo stesso autore e quindi lo stesso visione dei controsoffitti però qua si è appoggiato come se fossi caduto sul tavolo in cui sono queste che dopo un po' capisco che sono posate e che diciamo in ogni caso diventa come primario nella comunicazione tutta questa parte qua infine l'ultima delle delle immagini diciamo un po' terribili in questo caso abbiamo una cozzaglia di cose che più o meno non vanno soprattutto il fatto di aver messo il retro di questa poltrona che un po' ricorda la parte del finale del letto di Van Gogh però chiaramente in questo caso diventa un'ostrusione diciamo rispetto a quello che dovrei vedere probabilmente in questo ambiente la parte che doveva essere importante il vero progetto architettonico di arredo è questa cosa qua che dovrebbe essere molto probabilmente un cammino dove invece viene praticamente nascosto e mascherato da questo da questa poltrona quindi alcune delle cose a cui stare attenti e cercare di evitare certo parlavo prima della regola dell'impaginazione con i terzi le linee di fuga sono importanti però mettendoci un po' di occhio riflettendoci molto sull'inquadratura si riescono a correggere questi errori mettetevi dalla parte del committente questo è il suggerimento qui abbiamo passiamo in un altro livello dove in effetti la comunicazione in qualche modo dal mio punto di vista viene trasmesso ovviamente qui c'è molta cura nel dettaglio materico degli elementi c'è molta cura nei trappeggi c'è molta cura nei cuscini però in questo caso abbiamo una diciamo un'inquadratura abbastanza corretta e mi fa vedere un letto diciamo funzionante ora in questo caso mi chiedo chi può essere il committente di questa di questa stanza da letto sicuramente potrebbe essere un hotel un albergo in questo caso mi viene da pensare che forse l'idea da far vedere al al direttore dell'albergo o al al dirigente dell'azienda dell'albergo che guarda queste immagini può essere che a lui non piaccia molto vedere il disordine di vissuto che è stato messo qui è un disordine ricercato è un disordine fatto bene non in gombe come negli altri casi ed ha un'atmosfera di riposo e di serenità diciamo che potrebbe essere più apprezzabile per un committente privato dove immagina che voglia vivere il il suo letto lo stesso autore la stessa sala altra inquadratura in questo caso viene messa di più in evidenza la composizione diciamo dell'arredamento quindi le boiserie qua dietro vengono messi in evidenza le luci e l'insieme ecco questa valorizza l'idea che noi vogliamo che noi vogliamo trasmettere al committente qui abbiamo un altro esempio è un è un negozio è un negozio di un nostro cliente questo rappresentato con con Archicad è una vista illuminata in un certo modo in questo caso quello che viene messo in evidenza in primo luogo è questa specie di bancone vetrina in cui saranno esposti del sarà esposto della merce giustamente è stato mantenuto vuoto perché probabilmente essendo immagino cose alimentari sarebbe stato molto difficile rappresentarli dal punto di vista alimentare ma avrebbe anche tolto al l'eventuale committente la possibilità di valutare diciamo il design dei vari elementi di queste strutture che sono molto esili molto sottili quindi in questo caso si è voluto valorizzare la forma di quello che si è in è stato realizzato è illuminato in un certo modo però l'illuminazione e quindi la scelta delle fonti luminose visto che stiamo parlando di interni ha un'importanza fondamentale nel restituire quello che è una sensazione un'emozione un qualcosa che si vuole comunicare stessa identica inquadratura cambia totalmente nel momento in cui vengono accese le luci interne quindi questa è la illuminazione diciamo diurna con l'illuminazione sì che c'è interno ma anche illuminata dall'esterno per cui quello che si vede che si vede di giorno e questa invece l'illuminazione serale che dà un altro tipo di sensazione al e quindi in questo caso probabilmente siamo riusciti a comunicare o riusciamo a comunicare quello che è il nostro anche stile di comunicazione quindi la disposizione delle luci ci aiuta moltissimo nel valorizzare nel valorizzare il più possibile la nostra comunicazione qui volevo far vedere solo una piccola cosa è un esempio buttato lì di un qualcosa che mi è capitato in passato ma che può aiutare anche nel capire quanto la composizione delle immagini delle immagini come queste vengono inquadrate dove posizionare il punto di vista il punto di fuga e una serie di altre cose possono cambiare possono cambiare la sensazione è la stessa identica cosa stesse dimensioni ma hanno degli diciamo degli effetti totalmente diversi era una galleria di un di un grande edificio per commerciale per uffici una galleria però dalle dimensioni abbastanza come dire ridotte non proprio da galleria piacevole ampia bene e questo in fase di progetto probabilmente presentato in questi modi avrebbe dato una non un'idea molto piacevole di grandiosità e allora chi ha fatto questa che ha presentato queste queste immagini ha voluto in qualche modo ha cercato come ci capiterà anche a noi di cercare l'idea per esempio di inquadrare la controsoffittatura in un certo modo eccetera ha cercato di fare è con quello di dare un'idea di qualcosa di più ampio di più spazioso rispetto a quello che è nella realtà da mostrare al cliente falsificando un pochettino ecco aggiustando come si dice un pochino in questo caso la presenza delle sagome umane o delle figure umane è fondamentale perché ci dà la proporzione la scala dell'intervento noi se non ci fossero le figure umane non sapremmo più o meno dare una diciamo una dimensione a questa cosa ma quando ci mettiamo le figure umane noi allora siamo abituati e già diamo la dimensione dell'insieme qui però abbiamo un'idea di una maggior dimensione una maggior spaziosità che cosa abbiamo fatto beh abbiamo abbassato l'inquadratura quella precedente era vista ad altezza di un metro e settanta un metro e sessanta quindi inquadratura ad altezza uomo abbiamo non esageratamente abbiamo abbassato l'inquadratura questo dà una maggiore senso di altezza al nostro insieme ma qui abbiamo fatto il trucco il trucco lo potete vedere qui il nostro omino è alto quanto metà della porta siamo stati attenti o dovremmo essere stati attenti a togliere la maniglia dalla porta perché questa se no avrebbe smascherato subito il nostro trucco in questo caso le sagome sono ad altezza normale in questo caso le sagome sono state rimpicciolite è un trucco ma è un trucco che mi aiuta a in molte situazioni a rappresentare al meglio la mia la mia idea dovete tener presente che noi dobbiamo presentare un disegno o un'immagine che deve essere verosimile è sempre una fiction non deve essere reale deve essere realistica e quindi comunicare al nostro committente quello che è la nostra idea in qualche modo tanto in ogni caso lui quando sarà costruito non la vedrà mai esattamente come gliel'abbiamo fatta vedere detto questo e quindi finita questa elucubrazione sui su quelli che possono essere diciamo possono essere stati i i vari aspetti e quindi i consigli su come fare andiamo a vedere quali sono un po' facciamo una carrellata sugli strumenti che abbiamo a disposizione chiaramente il primo strumento da cui partiamo è Archicad che mi permette di costruire che mi permette di costruire esattamente il il modello tridimensionale ottenere piante prospette e sezioni in questo caso stiamo utilizzando la funzione di Archicad per raddrizzare le linee diciamo convergenti verticali e quindi avere una prospettiva senza strombature che danno sempre uno strano effetto nel 3D noi abbiamo la possibilità qui in Archicad di per ottenere dei buoni rendering andare a scegliere e posizionare i materiali alle varie superfici e quindi utilizzando la funzione una delle funzioni di Archicad per assegnare alle varie superfici delle tessiture delle finiture di materiali considerando che è importante la scelta e la definizione di questi materiali oltre che della luce e poter passare una volta studiata l'inquadratura poter passare alle impostazioni del rendering utilizzando il motore di rendering di Cinemax che è presente in Archicad è uno dei motori di rendering più più potenti anche se oramai non è più fra i più veloci però riesce ad essere diciamo inglobato in Archicad a dare dei buoni degli ottimi risultati si basa sul fatto come avete visto di poter scegliere già delle preimpostazioni delle scene preimpostate in base a quello che vogliamo ottenere avere un'anteprima una preview in questo caso una preview per una scena dall'esterno con le luci esterne e visto che si vedeva quasi nulla di quello che c'era all'interno abbiamo cambiato e abbiamo scelto una diciamo per una illuminazione interna che però risulta troppo chiara per per quanto riguarda invece le componenti esterne e quindi abbiamo ampliato l'intensità delle lampade e l'intensità dei della illuminazione dei materiali e abbiamo calato un po' l'intensità della luce esterna volendo abbiamo è possibile passare a impostazioni dettagliate e quindi poter andare a impostare tutta una serie di vari di vari elementi di di vari di vari settaggi definiamo la dimensione di quello che vogliamo ottenere e avviamo il il fotorendering di questo di questa immagine l'immagine è abbastanza adesso questo era solo per farvi capire un po' il processo il flusso il flusso di lavoro del del elemento all'interno del e che è stato elaborato dall'interno del negozio era abbastanza complesso ma il risultato di questa immagine del rendering che potete vedere qui sotto è stato realizzato in poco più di due minuti comunque questa è la base diciamo in linea di massima generica per per quanto è possibile con Archicad realizzare dei rendering ovviamente è possibile scegliendo materiali più adatti e curando meglio l'illuminazione e l'inquadratura ottenere degli ottimi risultati come quelli che abbiamo visto prima un altro aspetto di Archicad sempre rimanendo agli strumenti è quello della realizzazione delle tavole di impaginazione noi non dobbiamo immaginare le tavole solo come la diciamo la realizzazione degli aspetti tecnici ma possiamo pensare che di impaginare per esempio un book o delle tavole da mostrare al committente la sezione del book di layout di Archicad che è quella che stiamo spulciando adesso è uno uno strumento molto potente per impaginare e in pagino in quel caso lì si possono impaginare disegni vettoriali si possono impaginare pdf si possono impaginare immagini si possono ritagliare si possono montare insieme si possono fare un un sacco di cose cioè uno strumento molto potente molto semplice da utilizzare proprio per la realizzazione di quelle che sono le diciamo le impaginazioni cartacee o la realizzazione di book che possono essere sia poi stampati ma anche lasciati e quindi consegnati in modalità salvati in pdf o in una sequenza di slide e di immagini quindi qui abbiamo in archicad anche questa parte che mi permette proprio di gestire queste cose sempre da archicad possiamo uscire per utilizzare uno strumento molto in voga che è la presentazione basata su tablet o su smartphone con quello che con bmx che è la app di grafi soft per la realizzazione di presentazioni ci permette di navigare di avere una navigazione interattiva all'interno del del nostro edificio e quindi possiamo scegliere cosa migliore dimostrare noi al nostro committente la navigazione all'interno del del progetto e quindi andare a scorrere e a evidenziare le cose che vogliamo evidenziare nel nostro progetto e ci permette anche di poter inserire nella fase della presentazione in navigazione interna anche la possibilità di avere delle delle immagini che abbiamo già realizzato come i fotorendering qui per esempio possiamo partire da una pianta in sostanza possiamo portare direttamente nel progetto di bmx le tavole anche quelle tecniche che abbiamo realizzato per cui andare proprio a discutere di queste cose la presentazione del progetto di interior design può essere proprio fatta direttamente con il nostro committente direttamente mostrandogli tutti gli aspetti del suo progetto direttamente su con il tablet utilizzando utilizzando il bmx quindi facendogli anche vedere degli scorci di quello che potrebbe essere o che sarà il il loro il loro edificio questi sono gli strumenti diciamo gratuiti in qualche modo compresi compresi in ARCHICAD poi ci sono degli strumenti esterni che in qualche modo si interagiscono con ARCHICAD si collegano ad ARCHICAD per ottenere risultati soprattutto fotorealistici in maniera più semplice e in maniera più veloce il primo storico è ARTLANTIS il programma che permette proprio di lavorando direttamente sull'anteprima e in tempo reale di poter definire comporre luci materiali superfici e quindi andare ad affinare direttamente guardando sempre i dettagli dell'anteprima andare ad affinare la realizzazione dell'intero progetto ARTLANTIS dicevo è un programma ormai storico molto diffuso si basa su un motore di rendering proprietario di Avent quindi con diciamo pregi e difetti con cultori e detrattori come succede quasi sempre in questi programmi anche questo come tutti gli altri bisogna in qualche modo saperlo utilizzare imparare ad utilizzarlo per poter ottenere il meglio di quello di quello che ci serve il risultato è che tutto sommato è molto più semplice e immediato ottenere soprattutto delle immagini fisse quindi dei fotorendering di quello che è il nostro progetto negli ultimi tempi gli ultimi anni hanno preso il sopravvento e stanno prendendo il sopravvento invece altri programmi come Twinmotion che era partito come un programma di animazione quasi di videogioco ma che si sta arricchendo e si è arricchito sempre di più di caratteristiche di qualità e quindi di alta definizione soprattutto nella gestione nella realizzazione nella renderizzazione delle varie superfici dei materiali e delle luci il programma ha una diciamo nasce dai videogiochi e dalla grafica avanzata dei videogiochi ma è quasi ha la semplicità di utilizzo quasi di un videogioco il risultato diciamo che si riesce a ottenere è estremamente interessante e veloce soprattutto si fa quasi tutto in tempo in tempo reale dicevo era nato per le animazioni e quindi far vedere il movimento o anche elementi che si muovono all'interno o intorno al al nostro edificio o al nostro progetto nel tempo essendo una cosa diciamo per far vedere animazioni la definizione la qualità dei materiali delle superfici non era altissima però via via questo è sempre man mano che aumentano diciamo si va avanti con le versioni queste diventano sempre più accurate e precise e il risultato la fluidità ma anche la qualità dei risultati è sempre è sempre maggiore è un programma molto interessante si interfaccia con Archicad e quindi mantiene una live connection con Archicad e riesce a come dire ad elaborare praticamente in tempo reale le le immagini da realizzare sia che si vogliano poi salvare come immagini fisse sia che si vogliano poi utilizzare come animazioni e quindi un altro aspetto probabilmente ancora da da valutare è quello della di una presentazione animata di quello che vogliamo fare altro elemento che usa praticamente lo stesso motore di rendering di Twinmotion anche se ha un'interfaccia differente e ha qualche cosa di diverso ma i principi di funzionamento sono quelli sono uguali e Lumion anche lui si evolve sempre di più e permette di avere o di andare a partendo dal diciamo dal modello tridimensionale di andare poi a definire in maniera molto veloce tutte quelle che sono invece gli aspetti della definizione di superfici animazioni persone movimenti di dell'acqua come per esempio in questo caso le operazioni sono sempre molto semplificate anche qui vale sempre quella regola iniziale che dicevo è quella di il mio suggerimento di non farsi come si dice sopraffare dallo strumento far sì che aggiungere a tutti i costi degli effetti vanno bene ma bisogna stare attenti a che questi effetti non vadano a distrarre da quello che è il nostro obiettivo quello che noi vogliamo far vedere al nostro committente e quindi fare un'ottima presentazione perché questo ci fa anche come professionisti da autopromozione ma ci dà anche la possibilità di diciamo di ottenere il portare avanti il nostro progetto senza avere troppe modifiche e facendo contento il nostro committente una delle caratteristiche e poi di di Lumion è quello di poter far vedere anche un po' la crescita del o del di eventuali eventuali progetti ecco c'è questa forma di animazione in cui posso far crescere il sviluppare il progetto quindi una presentazione animata in cui con una sequenza che vado a impostare per far comparire quindi una crescita via via del progetto e con questo questa mia chiacchierata è finita io spero che sia stata sia stata utile se avete qualche domanda o per qualche chiarimento le cose da dire sarebbero state tante però insomma è andata così un'ultima cosa che mi 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 era sfuggita era aspetti che stavo leggendo che stavo leggendo le domande era quella del questi programmi di questi di fotorender lumion twin motion atlantis richiedono per poter lavorare in tempi reali richiedono a parte una macchina un computer di una di una certa prestazione richiedono una quantità di memoria ram e una scheda grafica particolarmente potente perché lavorano molto utilizzando la 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 gpu quindi il processore della scheda grafica qui se avete intenzione di affiancare ad archicad che invece non fa un tantissimo uso della scheda grafica utilizza di più il processore la gpu e questi programmi invece la utilizzano la utilizzano molto ci saranno altri incontri più specifici ci è stato chiesto domani ci sarà un altro webinar in cui è sempre diciamo la realizzazione di un di un progetto di retail e che credo che sia molto interessante per questa cosa per quanto riguarda la diciamo la presentazione dei e la realizzazione di elaborati per la presentazione del progetto ripeto chi magari è arrivato un po' dopo la vi rimando al webinar di Luca Mannelli che trovate su Learn sul portale Learn dove ci sono anche altre cose che altri webinar in cui si parla di queste cose per altre domande sono relative alla possibilità di rivedere questo video sì fra penso un paio di settimane al massimo sarà possibile saranno messe tutti questi incontri saranno messi sul nostro canale YouTube quindi sul canale Graphisoft Italia di YouTube li ritroverete e quindi li potete andare a rivedere con comodo lo uso con quel medium con un MacBook Pro 13 senza scheda grafica discreta sì qua c'era una richiesta relativa credo a alle caratteristiche di un MacBook Pro ovviamente per quanto riguarda diciamo i Mac contemporanei anche non parlo degli ultimi che sono sembra dalle prestazioni come sempre dicono astronomiche ma diciamo anche quelli di qualche anno fa i programmi come Twinmotion funzionano ancora funzionano certo magari sono un po' nella fase di diciamo di elaborazione sono un po' più lenti però insomma si riescono a far funzionare Lumion a differenza di Twinmotion Lumion invece attualmente che io sappia esiste solo per Windows non c'è la versione per Mac mentre invece sia Twinmotion che Atlantis esiste sia la versione Mac che la questione che la versione Macintosh ok altre cose l'ultima è la state per quanto riguarda i possessori di Archicad l'11 di novembre quindi fra otto giorni più o meno verrà uscirà un update dell'Archicad 25 che vi consiglio di installare per tutta una serie di motivi gli update mettono a posto dei piccoli errori che ci sono nei programmi che si riscontrano nell'utilizzo massiccio del programma ma mettono anche questi qua dell'Archicad 25 aggiungono anche nuove funzionalità e alcune di queste nuove funzionalità sono molto interessanti e quindi vi consiglio di aggiornare il vostro Archicad 25 sì c'erano dei paragoni in cui si dice un Macbook del 2019 un'immagine in 4K la elabora in due minuti e mezzo un M1 in 11 secondi eccetera qualcuno dice a me non viene fuori l'aggiornamento l'aggiornamento lo potete cercare o nel nostro sito oppure nel menu aiuto di Archicad il controllo aggiornamenti bene io vi ringrazio altri webinar strutturati così domani ce ne sarà uno poi mi pare dopo domani ce ne sarà un altro quello di domani è sempre a che fare con il retail ma non solo con la presentazione del retail ma anche con la proprio la gestione anche di ABACI Computi e quant'altro grazie 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 a tutti e alla prossima